Il segreto Il segreto anticipazioni prossima settimana. Candela torna a Puente di Egio, punto grandi sorprese nel corso delle prossime puntate del segreto A grande sorpresa, Candela torna a Puente di Egio. La dolce moglie di Severo, fa il suo arrivo in paese, lasciando tutti senza parole Grazie alla bontà di Gracia, la donna torna in possesso della sua pasticceria, e del suo vecchio appartamento E così, la vedova di Tristan torna a vivere insieme al suo amato, e al loro piccolo bambino Intanto, a Los Mentantiales le cose non vanno affatto bene. Hernando si rende conto che gli affari non stanno migliorando, e questo fa sì che i suoi debiti aumentino Beatriz sta sempre più male per Mattias, e trova una specie di consolazione nell'amicizia stretta con Aquilino Anticipazione e il segreto. Beatriz chiede un appuntamento a Mattias, punto Beatriz invia un bigliettino a Mattias con cui gli chiede di incontrarsi Alfonso scopre tutto e si fa dare da suo figlio il fogliettino con il messaggio della Dos Casas L'uomo chiede al giovane di non promettere che non andrà all'appuntamento. Alla fine, il marito di Marcella, decide di non recarsi nel luogo in cui lo sta attendendo la sua ex fidanzata Quest'ultima resta molto male e corre a confidarsi, e a farsi consolare da Aquilino In ogni caso, quest'uomo non altro che cattive intenzioni? Marcella si è ripresa e finalmente è tornata a stare bene Mattia sembra essere finalmente innamorato della donna, che ha sposato, e che gli sta per dare un figlio Anticipazioni il segreto. Saul e Giulietta amanti segreti, punto Saul e Prudencio sono super felici di poter continuare a vivere alla villa In ogni caso, le cose iniziano a prendere una strana piega. Saul incontra di nuovo Giulietta, e i due si rendono conto di essersi innamorati Per non fare infuriare Francisca Montenegro, la coppia decide di tenere la loro relazione il più segreta possibile Intanto, Prudencio non si mostra affatto felice per suo fratello, e per l'amore che prova per la giovane donna Per non fare affrontare una strana piega.